Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, l'intenso racconto di una famiglia che, capeggiata da un uomo distruttivo, va in pezzi. Il libro è stato premiato come miglior libro dell'anno dai librai norvegesi. La trama del libro La mia Ingeborg dello scrittore Tuo Venborg, pubblicato dalla casa editrice Fazzi, è la seguente. Tollak è un uomo pieno di contraddizioni, testardo e sensibile, rude e orgoglioso. Un uomo impossibile, a detta di molti. Ormai vecchio e solo, barricato nella sua fattoria, non fa che imprecare contro il mondo che da tempo, per lui, ha smesso di avere senso. L'unica persona che lo teneva attaccato alla vita era lei, sua moglie Ingeborg, amatissima, scomparsa da qualche anno. Tollak di Ingeborg lo chiamava la gente del paese. I suoi due figli, ora adulti, hanno abbandonato la valle. Teatro di un'infanzia difficile, oggi vivono in città, e passano a trovarlo di rado. Soltanto Oddo è rimasto con lui, Oddo lo scemo, per i vicini, lo zimbello di tutti, un ragazzo problematico di cui si prende cura da quando, ancora bambino, è stato abbandonato dalla madre. La vita di Tollak, soprattutto negli ultimi anni, è stata avvolta nel silenzio. Troppo difficile dare voce alla rabbia che gli brucia dentro. Ma ora è giunto il momento di parlare, di raccontare finalmente la sua verità. Così, l'uomo insiste affinché sua figlia e suo figlio tornino a casa ancora una volta, forse l'ultima. Prima che sia troppo tardi ha bisogno di condividere il suo segreto. O meglio, i suoi segreti, le verità che Tollak ha sempre tenuto per sé sono molte, e sono una più sconvolgente dell'altra. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.